Testimone della drammatica situazione della Siria, padre Ibrahim al-Sabag, dal 2014 parroco di Aleppo, ha incontrato oggi i ragazzi dell'Istituto Matilde di Canossa di Como. Un'occasione per presentare il suo ultimo libro, Viene il mattino, Aleppo, Siria, riparare la casa, guarire il cuore, nel quale racconta la sua esperienza quotidiana di aiuto cristiano ai più bisognosi. Sicuramente adesso ci sentiamo appesi fra cielo e terra, ci sentiamo come un pallone fra i piedi di tanti giocatori internazionali. Non c'è una prospettiva di futuro, una città che continua, anche un paese che continua a essere distrutto, di 70% per la città di Aleppo, senza una mossa di ricostruzione. La gente è avvolta dalla povertà e anche dalla disperazione. Cosa state facendo con la vostra missione? Sicuramente stiamo cercando di dare segni di grande speranza, di restituire questa speranza alla gente, attraverso una cinquantina di progetti, sia di emergenza, di prima emergenza, pacchi elementari, e poi medicine, assistenza sanitaria di tutti i tipi, ma anche aiutare in tutto, anche nel pagare una barra per i servizi funebri. E poi dall'altra parte ricostruiamo tante case con ingegneri locali. Siamo arrivati a ricostruire più di 1300 case fino ad oggi. Filo conduttore di tutta la testimonianza di padre Ibrahim, la generosità. Senza la generosità di tante persone qua in Italia, noi non avremmo potuto continuare questa missione impossibile.